eccoci qui con le letture manga che ho fatto nella prima parte di luglio 2021 naturalmente come sempre vi faccio partire dalle novità la novità che mi sono dimenticato nello scorso video effettivamente perché l'avevo appoggiato da un'altra parte è il randaggi di Shinzo Keigo questa cosa molto molto figa in 4 volumi per J-pop il costo del box intero è di 30 euro Shinzo Keigo già autore di Tokyo Ellen Bros quindi ha già dimostrato il suo talento ma qui secondo me lo dimostra ancora di più randaggi è la storia di questa ragazza che vediamo in copertina questa ragazzina in realtà perché poi ha 16 anni e ci sono delle pagine a colori molto molto belle nel primo volume non mi ricordo se ci sono anche negli altri se ce n'è qualcuna ma forse sì è davvero davvero figo e praticamente parla di questa ragazzina che è costretta diciamo a andare a giro da sola la notte di Tokyo perché ha un pessimo rapporto con la madre che scopriremo poi riversa su di lei tutte le sue frustrazioni di una vita che non le ha dato quello che voleva e quindi le riversa sulla figlia uno dei peggiori esempi di essere umano e di genitore che ci possono essere e quindi lei si trova imbischiata poi ovviamente in brutte storie con gente che la sfrutta questo cambia un pochino da quando incontra quest'uomo che è un ispettore di polizia che ha perso tragicamente la figlia in un incidente in cui era coinvolto anche lui diciamo dettato da una sua disattenzione molto grave anche a causa della forte somiglianza che c'è tra questa ragazza protagonista e la figlia lui la prende molto a cuore questa situazione però il prendere a cuore questa situazione farà venire fuori anche delle cose che proprio non vanno tanto bene in Giappone ma credo in tutte le parti del mondo a livello legale perché lui prendendo con sé questa ragazza rischia praticamente di essere arrestato come uno che l'ha sequestrata come se l'avesse rapita quando in realtà sta solamente cercando di darle una mano e quindi vedremo la storia di questi due personaggi la storia di crescita di questi due personaggi sia di lei che è molto piccola sia di lui che è già una persona adulta anzi abbastanza avanti con l'età che però comunque ci fa vedere che c'è sempre tempo per crescere e sia appunto di questi meccanismi burocratici giapponesi abbastanza come dire statici abbastanza bloccati abbastanza fermi su se stessi quindi consigliatissimo insomma davvero davvero bello Randaji di Shinzo Keiko una delle letture migliori che ho fatto negli ultimi tempi sì è davvero bello davvero bello anche io l'ho letto tutto in una volta Carmelo solitamente io mi tengo un po' le opere per diverso tempo mentre Randaji l'ho letto tutto in un pomeriggio perché ho letto il primo e non sono riuscito a fermarmi ho dovuto leggere fino alla fine ecco forse l'unico difetto che potrei trovargli è che è un po' un po' corto ne avrei voluto leggere di più andiamo avanti sempre con le novità ho letto il primo volume di Green Manga Tales saranno due volumi che dire non mi ha particolarmente colpito viene 6,90€ per Manga Senpai comunque ci faremo una live anche con Manga Senpai su questo titolo e magari su altre cose di questa casa editrice è sicuramente interessante l'idea perché prende le favole dei fratelli Grimm e le racconta in un modo molto giapponese e anche molto diverso da quello che è l'originale quindi da quelle che sono le favole originali però a me non è particolarmente piaciuto diciamo lo stile di disegno che non mi ha detto niente rispetto a tantissime opere simili che sembrano molto molto simili e anche la storia non mi ha appassionato così tanto però comunque potrebbe secondo me far presa su chi ama già le favole e le storie un pochino più fantasy perché il fantasy è uno di quei generi che a me solitamente non dice granché quindi sicuramente sono stato influenzato anche da questa mia preferenza molto molto personale e vi ripeto che ne parleremo comunque con Manga Senpai con l'editore direttamente in una live ho preso il primo volume della full color edition di Attack on Titan che vi ho già fatto vedere comunque in dei video acquisti quindi recuperate quelli se volete non sarà tutta la serie completa in full color ma solamente alcuni capitoli selezionati dai fan giapponesi poi ho letto il primo volume di Violent Action di Renji Asai su storia originale di Shinsawada e che dire anche questo non mi ha particolarmente colpito per Jpop a 6,50 euro sicuramente carino, godibile l'ho letto fino alla fine se non mi fosse piaciuto per niente non sarei arrivato alla fine però secondo me è molto simile a tante altre storie del genere dove vediamo una ragazzina apparentemente pucciosa tutta carina, tutta innocente che in realtà si scopre essere una serial killer imbattibile che nessuno riesce a fermare neanche se li separano davanti 40 uomini armati fino ai denti e il primo numero è tutto così fondamentalmente vediamo lei che porta avanti questi lavori che le vengono commissionati e però non fa niente di più questo manga nel senso non c'è una grossa introspezione psicologica anzi non ce n'è proprio probabilmente quindi non è quello che cerco al momento e non credo che andrò avanti con Violent Action invece mi è piaciuto molto il volume unico di Naoki Urasawa Mujirushi Il segno dei sogni che è questo volume unico fatto in collaborazione con il museo del Louvre così come è capitato già per altri mangaka come ad esempio appunto il già citato Giro Taniguchi oppure anche l'autore di bellissime opere come Tekken Kikrit, Sunny, Gogo Monster, Taiyo Matsumoto ed è molto bello perché non è un volume incentrato sul Louvre nel senso lui prende questo pretesto del museo francese per costruirci intorno una storia una storia che parte dal Giappone da un appassionato di Francia tutto un personaggio fantastico che è preso in prestito da un manga di Fujio Akatsuka questo grandissimo mangaka di storie comiche che purtroppo non è mai arrivato in Italia e quindi Urasawa ci costruisce dietro una storia davvero figa che ha per protagonista la bambina che vediamo in copertina e suo padre che è praticamente un coglione che la cosa che sa fare meglio è fare debiti e incasinarsi grazie alla sua stupidità anche se poi fortunatamente le cose grazie all'intervento di altre persone sembrano andare meglio poi proseguendo con le novità abbiamo Tower of God volume 1 e di questo ve ne ho già ampiamente parlato nella scorsa live e poi ricaricherò lo spezzone anche su YouTube non mi è piaciuto non mi è piaciuto per niente a partire dai disegni che ho trovato veramente osceni veramente ai limiti del pubblicabile e la storia banale non mi ha detto assolutamente nulla sarà che ho letto tanta di quella roba ma veramente non mi ha detto nulla quindi questo sono sicuro che non lo continuerò e poi l'approfondimento arriverà anche su YouTube ho letto Anime Sport il libro di cui vi parlerò meglio comunque in tante altre occasioni perché abbiamo delle live abbiamo una live programmata in occasione dell'apertura delle Olimpiadi abbiamo il 16 luglio al Rimini Comics questo panel con l'autore Fabio Bartoli di cui ne parleremo quindi sicuramente le parleremo ancora meglio poi come novità ho letto Metamorfosi volume 1 e questo mi è piaciuto molto per J-pop a 9,90 euro è un box con 5 volumi se non ricordo male 4 volumi? no 5 volumi sì esatto ed è una storia davvero simpatica di una vecchietta molto molto anziana che da giovane leggeva i manga e praticamente passando in una libreria scopre tutto un settore dedicato ai boys love senza sapere cosa siano i boys love ne prende uno a caso e si appassiona fatto sta che anche la commessa di questa libreria è una grande appassionata di boys love e per un fatto fortuito ovvero che la vecchietta vuole assolutamente leggere il sequel il seguito di questo manga che aveva preso ma non era al momento disponibile diciamo che si prodiga per lei la commessa e diventano amiche praticamente una ragazzina delle superiori e questa vecchietta di più di 70 anni diventano amiche grazie a questa passione per il boys love molto molto carino tra l'altro di Kaori Tsurutani avevo già letto l'opera precedente pubblicata da Bao che non mi era piaciuta niente quindi sono contento che invece questo mi stia prendendo poi abbiamo il primo volume di Vampires My Peer Vampires di Achili questo devo dire che è stato molto carino a 12,90 euro per Dini Ti Manga forse un pochino alto il prezzo e cosa dire una storia che è un pochino Yuri da quello che ho capito perché effettivamente narra questa sorta di amore che viene a tracciarsi tra le due ragazze protagoniste quelle che vediamo in copertina sono entrambe bellissime cioè grazie allo stile di disegno dell'autrice veramente pulito preciso ma non così banale a me è piaciuto molto si scopre però che una di queste ragazze è praticamente un vampiro infatti subito succhia il sangue all'altra ragazza che non sembra così dispiaciuta ecco non sembra così dispiaciuta anche perché ha avuto praticamente un colpo di fulmine per questa biondina e quindi parte una storia molto particolare molto particolare anche perché la biondina come desiderio maggiore avrebbe quello di essere uccisa dall'altra quindi ecco vi lascio immaginare le situazioni che potremo vivere e poi come ultima novità manga abbiamo Shingo Tamai arrivano i Super Boys volume 1 di Ikki Kajiwara il grandissimo Ikki Kajiwara il padrino dello Spokon e Mitsuyoshi Sonoda davvero interessante perché comunque ci fa vedere forse quello anzi senza forse credo sia abbastanza sicuro quello che sto dicendo ovvero il primo manga sul calcio mai pubblicato in Italia in Giappone anche perché è stato pubblicato nel 71 a differenza di quanto erroneamente detto all'inizio qui della della pubblicazione dove c'è la biografia di Ikki Kajiwara e dove si parla della pubblicazione originale di Shingo Tamai arrivano i Super Boys viene scritto infatti che venne serializzato tra il 46 e il 47 sulla rivista Shonen King in realtà no è stato pubblicato dal 71 al 72 mi sembra perché nel 46 comunque Ikki Kajiwara aveva 10 anni ma a parte questo è interessante vedere una storia di quegli anni soprattutto se si vuole capire anche come veniva visto il calcio all'epoca in Giappone una cosa quasi totalmente nuova nel senso che non c'era neanche una lega professionistica giapponese a quel tempo di calcio e quindi praticamente qui sembra di vedere dei pionieri del calcio giapponese quelli che poi avrebbero fatto arrivare i figli e i nipoti e i pronipoti che arrivarono sotto forma di Captain Tsubasa prima e poi altri come ad esempio Giant Killing primo volume comunque introduttivo perché ci fa vedere il carattere ribelle del protagonista Shingo Tamai che mi sembra di ricordare poi verrà comunque raddrizzato soprattutto dall'allenatore l'allenatore che è un po' un misto effettivamente tra quello che era il vero allenatore dell'epoca e quello che avremmo visto dopo come archetipo del manga Spokon perché non era così violento come ad esempio gli allenatori che si vedono in Mila e Shiro quindi Attack No. 1 no Attack Ryu scusate Attack No. 1 era Mimì Aiwara ed è comunque interessante vedere tutte queste cose che poi saranno anche diciamo delle caratteristiche molto molto fondanti del genere Spokon poi vabbè faccio vedere anche questo che è il Weekly Young Jump mi sembra praticamente quello che ho ricevuto da Mangayou dove c'è Golden Kamui dove c'è Kingdom quindi una delle riviste seinen più fighe praticamente che c'è in Giappone perché ci sono alcuni dei manga più belli per quanto riguarda invece i manga in corso cosa ho letto Akira volume 4 qui si entra davvero nel vivo di questo capolavoro meraviglioso dovremmo aspettare un po' per il 5 ma va bene siamo quasi alla fine poi il secondo di Fullmetal Alchemist bellissimo edizione bellissima Shaman King volume 6 anche questo mi sta piacendo davvero non ero così convinto nei primi 3 4 numeri però si sta riprendendo alla grande Asadora volume 4 peccato solo che è andato in pausa in diciamo in veste non definitiva però per ora hanno detto si va in pausa non si sa per quanto quindi mannaggia patata orca poi Yotsuba E volume 11 sempre fighissimo una delle cose più comiche che ho letto che sto leggendo il 24 di Villanzaga mi piace un sacco Villanzaga ragazzi la piega che ha preso veramente per me è eccezionale 9 volume 3 anche qui si entra nel vivo davvero della storia e soprattutto vediamo degli elementi anche un pochino più spirituali esoterici rispetto all'inizio l'8 di Ikari Man che è anche la conclusione di quest'opera di Deo Yamamoto che dire sì mi è piaciucchiato però niente a che vedere con Omunculus e Ichi The Killer ha voluto sperimentare Yamamoto e questo va benissimo però magari ovviamente un esperimento può riuscire come può non riuscire e questo è riuscito solo a metà secondo me tutto qui però magari poi se riuscirò farò una recensione completa il 15 di Rial finalmente dopo 5 anni tipo un bel numero un bel numero che approfondisce molto su uno dei personaggi principali che non è disabile quindi non è tra quelli che fanno basket in carrozzina ma lui è appunto un normo dotato e però ha forse si può dire delle disabilità psicologiche perché è molto bloccato su alcune cose a livello psicologico Blue Period 6 è davvero bello perché anche qui indaga a fondo su quelle che sono le fragilità del protagonista principale il quinto di Savage Season è un numero di dichiarazioni d'amore quindi davvero molto molto carino e stessa cosa per Sunset Light volume 4 se volete uno shoujo leggerino questo è perfetto secondo me e anche questo è un numero un po' di dichiarazioni quindi molto molto carino qui è un numero